Ciao, ciao, namaste Benvenuti o bentornati su questo canale ASMR Per chi non mi conoscesse, io sono Shanti Shanti, shanti, shanti O più semplicemente chiare Il video di oggi sarà un video unboxing slash bar Svuota la spesa Infatti ho qui con me uno scatolone enorme Pieno di prodotti giapponesi Per la preparazione del sushi Come vi avevo già accennato in un altro video Io preparo il sushi a casa, homemade Da inizio a fine quindi E non sono assolutamente un'esperta Però in realtà è già da un paio di anni che lo realizzo Quindi con il tempo ho affinato la tecnica per così dire E da un po' di tempo a questa parte Mi rifornisco da questo sito che si chiama Sushi 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 Ed è un e-commerce di prodotti giapponesi ed asiatici Hanno il negozio fisico se non sbaglio a Roma Ma per il resto appunto riforniscono i ristoranti Il settore oreca di tutta Italia Anche attraverso questo e-commerce E niente, io non vedo l'ora di iniziare Lo scatolone è qui per terra perché è davvero gigantesco Provo un attimo magari a farvelo vedere Non sa neanche tutto nell'inquadratura Rimettiamolo qui a terra Il primo ingrediente è il riso Riso giapponese per sushi Della marca Nipponia Nipponia Di cui appunto questo e-commerce è distributore immagino Ovviamente questo video non è sponsorizzato in alcun modo Né c'è alcun tipo di collaborazione Assolutamente Il riso per sushi è a chicco tondo E contiene normalmente una grande quantità di amido Infatti è da lavare ripetutamente in acqua fredda Prima di utilizzarlo Prima di utilizzarlo Di metterlo a cuocere Unico Basta Bora Nipp side Unico originario il nipponia sushi rice è un riso di qualità originario cioè un riso coltivato da seme importato dal giappone ha il chicco radondo, cristallino e regolare come per tradizione deve essere un buon riso per sushi il riso nipponi è il risultato di lunghe ricerche e investimenti per produrre un ottimo riso giapponese in Italia infatti questo brand nipponia è un brand italiano che utilizza ingredienti di base diciamo così giapponesi ma poi la lavorazione, trasformazione o in questo caso per il riso coltivazione avviene in Italia poi abbiamo l'aceto di riso ed è indispensabile perché il riso per il sushi una volta cotto deve essere condito con una miscela di aceto di riso, sale e zucchero infatti mi fa sorridere quando sento qualcuno dire che il sushi in realtà è un tipo salutare perché si tratta solo di riso e di pesce è vero è vero fino a un certo punto perché il riso per l'appunto è molto calorico visto che viene condito con lo zucchero però finché non se ne abusa è buono tra l'altro tra l'altro su questi suoni su questi suoni poi abbiamo le alghe l'alga nori in foglie che sono la base della nostra preparazione del sushi infatti quindi questo foglio quadrato viene tagliato a metà e su questa metà viene steso il riso poi il pesce e tutti gli altri ingredienti questa è una confezione da 50 fogli che quindi diventeranno 100 pezzi di sushi 100 roll 100 ramaki 100 sumaki dipende cosa volete fare e ha il salva freschezza per poter richiedere la confezione per il momento lascio tutto qui in realtà non so se mi basterà se mi basterà l'inquadratura poi abbiamo il wasabi che io adoro dentro c'è un tubettino questo possiamo aprirlo se ci riesco dentro c'è questo tubettino di pasta di pasta di wasabi è piccante quindi non piace a tutti in realtà non serve per la preparazione diciamo un condimento poi lo centro marinato marinato anche in questo caso si tratta di un condimento le fette di zenzero normalmente andrebbero mangiate tra un pezzo e l'altro per pulire la bocca diciamo e mandar via il sapore dell'ultimo pezzo che si è mangiato ad esempio ad esempio mangiando una tipologia di sushi con un certo tipo di pesce poi magari mangiandone subito dopo un altro in modo da apprezzare in modo da apprezzare al 100% il sapore questo queste ovviamente sono quantità industriale che mi dureranno un'infinità e di solito sia per quanto riguarda le alghe che per lo zenzero prendo quantità minori per le alghe ci sono pacchetti da 10 per lo zenzero ci sono dei vasetti facilmente richiudibili ma erano finite e siccome in realtà sono cose di cui non posso fare a meno le ho prese comunque e questo comunque si conserva tranquillamente in frigorifero anche in un altro contenitore aromatico ora iniziamo a fare un po' di spazio ora queste erano le cose base e ora invece partiamo con le ciccionate ovviamente non c'è del pesce qui dentro questo e-commerce spedisce anche il fresco barra congelato però ovviamente è tutto un altro tipo di spedizione perché te lo mandano entro 24 ore mi sembra con il contenitore termico il ghiaccio secco ovviamente ovviamente onde evitare qualsiasi tipo di problema io non l'ho mai provato ma non perché non fossi tentata semplicemente perché non ho avuto l'occasione e eventualmente quando ci sarà la possibilità di fare cene con un po' di persone in tutta tranquillità sarà una delle prime cose che proverò sicuramente anche perché hanno una qualità di pesce incredibile quindi come vi dicevo partiamo subito con le ciccionate la prima è questa salsa I'm so vegan è maionese giapponese vegana in questo caso quindi senza uova e il nome che io non ho mai capito come si pronuncia quindi perdonatemi è sriracha sriracha leggermente piccante squisita da quando l'abbiamo scoperta la mettiamo in qualsiasi cosa io in realtà anche quando magari mi faccio l'hamburger tcc che è una mia grande passione diciamo così e aggiungo questa è buonissima poi poi la farina per tempura non è farina quanto miscela pastella dovrebbe essere fatta con non mi si vede nella faccia dovrebbe essere fatta con farina di riso non mi ricordo cos'altro dove sono gli ingredienti ecco qua farina sale lievito in polvere da aggiungere con l'acqua da aggiungere con l'acqua per creare appunto la pastella per la tempura e poi il banco anche qui abbiamo quantità industriali in questo caso si tratta della versione giapponese del pan grattato ed è diciamo da utilizzare nel caso in cui si voglia fare una tempura particolarmente cicciosa una volta intinto il campurone e la verdura della pastella poi si passa in questo banco in modo da ricoprirlo completamente per un risultato molto croccante e gustoso questo banco a differenza del nostro pan grattato è in grani grossi diciamo quindi non è fine ma più grossolano l'ultima cosa anche in questo caso davvero molto l'ova la cipolla croccante non giudicatevi allora diciamo che non è prevista nella ricetta tradizionale del sushi però non so se avete presente soprattutto negli oliukenit propongono sempre più spesso questi uramaki con la cipolla croccante fritta e l'ho voluta prendere non l'ho mai provata in realtà questa è proprio davvero una cincenata in questo caso non giudicatevi bambina città fa un gran profumo io non vedo l'ora di mettere all'opera tutti questi meravigliosi ingredienti spero appunto di poter riprendere presto con cene in compagnia in Emilia Romagna siamo tornati nuovamente in zona arancione quindi il periodo è quel che è però perlomeno il cibo non manca e questi sono gli ingredienti che ho acquistato ne ho presi in quantità maggiori per esempio per quanto riguarda il riso l'aceto whatsapp in centro ma appunto sono le stesse cose quindi non sto ad unboxare anche quelle e confesso che ho già provato a registrare più volte un videocooking ma non ci riesco non è facile per niente e poi soprattutto la preparazione del sushi è molto lunga generalmente io ci metto io ci metto minimo due ore se non di più quindi continuerò a provare ma non so se quanto riuscirò a portare il videocooking di sushi sul canale speriamo prima o poi bene io spero che vi sia piaciuto questo unboxing o svuota la spesa vi lascio magari l'indicazione del sito in descrizione ripeto no sponsor no collaborazione niente del genere però secondo me sono davvero molto bravi almeno nella mia zona non è per niente facile rieperire questo tipo di prodotti quindi aver trovato questo e-commerce mi ha cambiato la vita fatemi sapere se proverete qualcosa del genere e e niente io vi saluto vi do la buonanotte o il buon pomeriggio o qualsiasi momento della giornata sia per voi vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo presto 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 ciao